Pallavolo Perugia sconfitta in casa. L'esordio di Floreale Pallavolo Perugia nel campionato di B2 non è stato poi così negativo come il 3-0 finale subito da Max Italia Service Firenze. Lascia intendere, il sestetto di coach Braghiroli almeno per due set se l'è giocata alla pari evidenziando sì qualche limite ma anche delle buone individualità. Le cose più negative si sono viste nel secondo parziale quando le perugine hanno lasciato talmente spazio all'avversario da concedere loro ben 10 punti di vantaggio. E dire che l'avvio di partita era sembrato equilibrato con sfasce e compagne pronte a rispondere colpo su colpo anche se costrette a dover fare i conti con il maggior peso offensivo delle Toscane. Il 21-25 con cui si è chiuso il primo set è stato un segnale di superiorità ma non così schiacciante. Poi il blackout già descritto è un secondo set praticamente compromesso. Nel terzo gioco il moto d'orgoglio bianco-rosso con subito sei lunghezze di vantaggio la sensazione di poter riaprire la partita almeno fino al 22-17 quando invece è iniziata la rimonta toscana completata con un 22-25. Un esordio amaro dunque che Pallavolo Perugia analizzerà bene in settimana così da farsi trovare pronta per un immediato riscatto.